Tempo Reale L'informazione in diretta della provincia di Rimini Tempo Reale Buongiorno, bentrovati, appuntamento con Tempo Reale 17 maggio, Andrea Polazzi, Simona Molazzani o Simona Molazzani, Andrea Polazzi Decidete voi Fate voi, se andiamo in ordine alfabetico e in ordine anche di importanza redazionale va prima il suo nome, siccome parlavo io mi è venuto da dire il mio e quindi perdonatemi se non ho rispettato le dinamiche di genere perché altrimenti poi mi si potrebbe accusare di qualsiasi cosa Ma non hai detto essa, anzi oggi si potrebbe accusare perché hai detto prima il nome di una donna di quello di un uomo non saprei oggi Se ci metto l'asterisco Guarda, no, evitiamo, evitiamo preserviamo la nostra bella lingua visto che abbiamo tante possibilità nella nostra lingua italiana non vedo perché dovremmo inserirci cose che poco c'entrano e che secondo me almeno non appassionano queste cose lo sapete, ve l'ho detto tante volte credo che il rispetto dell'altro arrivi in altri modi neanche con un linguaggio corretto ma utilizzando il nostro bell'italiano ma dopo questa analisi filosofica sui generi sulle posizioni sulle attenzioni su che cosa dire prima ma tu ti ad esempio sei uno di quelli che apre la porta quando devo entrare da qualche parte no, aspetta se tu sei insieme ad una ragazza la fai entrare prima ma aspetta non ti fai finire tu sei insieme ad una ragazza che cosa fai? le apri la porta e la fai entrare per prima non lo so in ascensore la fai entrare per prima dipende adesso io vorrei sapere dai nostri ascoltatori amici a casa qual è il loro comportamento sia che siate donne sia che siate uomini fateci sapere se nella vostra vita quotidiana siete attenti ad alcuni gesti che magari a questo punto sembrano anche un po' datati o invece sono sempre belli da ricevere e da fare 337511336 non c'entra nulla con la cronaca l'attualità la politica però questa mattina Andrea ha voluto così fare una distingua no, non l'ho voluto è così e allora io subito e che il cespuglio che votano nella mia mente ogni tanto fa contatto perché io mi aggancio perché poi sai che mi vengono sempre in mente queste idee quindi se lo desiderate così semplicemente noi questa mattina siamo qui come lo sapete il martedì una puntata un po' più breve perché poi arriva il nostro Stefano Rossini che anche ha gli sgoccioli finali della stagione della stagione perché poi dalla prossima settimana noi iniziamo temporale speciale elezioni ma lui non lo sapeva non lo sa lo sa o anticipiamo il suo appuntamento e quindi noi il martedì parliamo 20 minuti oppure invece bisogna che lo salutiamo vedremo vedremo allora ribadisco i contatti che sono sia per questa cosa che vi abbiamo così lanciata all'impronta ma studiata da tempo dalla nostra redazione perché ci tenevamo 337 511 336 oppure la nostra pagina facebook di tempo reale anche quella potete subito utilizzarla per i vostri messaggi i vostri suggerimenti e le vostre domande chiaramente al 337 511 336 potete mandare anche audio video ciò che desiderate da Rimini dalla provincia ma anche da tutto il territorio regionale qualora vi capiti di passare dalle nostre parti cioè dal canale 18 dalle nostre parti si sai che ho pensato un nuovo programma il 18 alle 18 sul 18 è un programma che va in onda una volta al mese ti piace un programma evento io che affiderei a Matteo Munaretto no no non un programma evento un programma evento mensile il 18 alle 18 sul 18 però glielo affidi deve fare solo quello cioè vabbè ma mi sembra buono cioè d'altra parte guarda che preparare durerà anche 18 minuti tra l'altro durerà 18 minuti ti sembra una bell'idea dobbiamo ancora trovare il tema però sono dettagli sono dettagli insignificanti da dove vuoi partire? ma decidi tu da questo simpatico malato che giocava a tennis e perché no sì possiamo anche far vedere delle immagini credo possiamo fare scorrere sotto le immagini cerchiamo di ricordare un po' non mettere il servizio in integrale ma far solo scorrere mentre io vi leggerò quello che è accaduto era affetto da una grave lombosciatalgia ecco lo vediamo insomma notoriamente anche tu più o meno però il dritto lo porto meglio era affetto da una grave lombosciatalgia che gli impediva di correre stare in piedi per lungo tempo persino di indossare il cinturone con la pistola d'ordinanza eppure durante il periodo di convalescenza ha preso parte a diversi tornei di tennis alcuni anche fuori provincia ad incastrarlo le indagini dei colleghi della Polaria di Rimini coordinate dal procuratore Ercolani che nel dicembre 2017 portavano al suo arresto un assistente capo della polizia di stato di 48 anni in servizio all'epoca dei fatti all'aeroporto riminese è residente nell'entroterra è stato però assolto dalla truffa e dall'uso dei certificati al fine di giustificare l'assenza del lavoro è stato condannato a nove mesi di reclusione pena sospesa per falsità ideologica di due degli otto certificati contestati oltre al pagamento delle spese processuali questo ha deciso ieri il giudice l'imputato che nel 2015 aveva prodotto svariati certificati la firma del proprio medico di famiglia di quello della questura e degli specialisti dell'ospedale di Padova tutti attestanti a un serio deficit agli arti inferiori secondo l'accusa avrebbe simulato e aggravato la sua patologia per indurre le autorità sanitarie in errore in modo da ottenere benefici ed esenzioni lavorative tradotti in un ingiusto profitto pari a 39 mila euro l'ordi il poliziotto era stato ripreso di nascosto mentre si allenava per ore a tennis le immagini che stiamo vedendo per chi ci sta seguendo in tv e sui social sono proprio relative a queste telecamere nascoste senza sofferenza che sarebbe sparita anche durante alcuni concerti che stiamo invece vedendo adesso in cui suonava il basso in una band di amici il male spiegava in uno dei colloqui medici intercettati e arriva alla sera dopo l'attività lavorativa il suo legale l'avvocato Rau presenterà ricorso contro la sentenza di condanna ma si dice comunque soddisfatto di aver dimostrato che il suo assistito non abbia ottenuto alcun vantaggio ingiusto dalla presentazione dei certificati quindi diciamo che condanna a metà anche rispetto a quelli che erano i capi di imputazione c'è chi soddisfatto giustamente come l'avvocato difensore che è riuscito a dimostrare che non si tratti di una truffa però resta comunque non so poi chiaramente vanno accertate le responsabilità legali poi se non è se non è un caso che deve essere considerato cioè è chiaro che anche solo per i colleghi tu sei in convalescenza sei in malattia magari gli altri si devono fare pure un doppio turno non so bene se ci sono insomma sufficienti agenti a coprire i vari turni immagino di no perché di carenza di organico ce l'è sempre proprio proprio non è che sia meraviglioso come atteggiamento comunque questo è questo è ciò che è stato accertato ma è anche il giudizio che è arrivato su tutto questo episodio salutiamo Sabrina salutiamo Antonio salutiamo Luca due uomini una donna fateci sapere che cosa pensate di questi gesti di eleganza fare entrare prima una signora quando si è in due davanti ad una porto davanti ad un ascensore gesti carini gesti che oggi si evitano per evitare magari di essere considerati troppo troppo bacchettoni non saprei perché fai passare qualcuno bisogna stare attenti oggi per cui se ci volete aiutare noi siamo qui anche a disquisire di questo soprattutto a disquisire di questo ma no adesso parliamo anche di altre cose più interessanti parliamo di giudici EPM che torna ad incrociare le braccia dopo 12 anni e giocano la carta dell'astensione dalle udienze per cercare di modificare la riforma carattabia dell'ordinamento giudiziario della nuova legge elettorale del CSM ieri il nostro Lamberto Abbati ha intervistato un magistrato riminese Celli che ci ha spiegato le motivazioni di questa mobilitazione mobilitazione che si è svolta nella giornata di ieri nel senso che proprio ieri che hanno incrociato le braccia ha detto vabbè oggi niente udienze o comunque nella maggior parte dei casi poi probabilmente alcuni magistrati come in tutti gli scioperi che si rispettano hanno comunque deciso di continuare la loro attività ma sentiamo le ragioni Dottor Celli ci spiega le motivazioni che hanno portato a questa giornata di astensione Sì la NM ha deliberato a larghissima maggioranza una giornata di astensione perché per trovare ascolto presso il Parlamento in particolare al Senato dove si sta discutendo l'approvazione del disegno di legge chiamiamolo cartabia senza che nessuno dei suggerimenti delle critiche delle osservazioni che sono state fatte dalla NM venissero prese in considerazione anzi alla Camera il disegno di legge è stato se possibile peggiorato introducendo delle novità inaccettabili a cominciare dalla valutazione dei magistrati sulla base delle conferme che le loro sentenze o le loro ipotesi di accusa trovano nei gradi di giudizio che si succedono per noi questa è una cosa inaccettabile perché conduce semplicemente al conformismo cioè non ci si chiederà più come tutelare meglio una situazione ma ci si chiederà solo come posso sfuggire qualche critica e adeguare la mia sentenza in modo che non venga riformata uno dei punti più dibattuti è il cosiddetto pagellone ai magistrati cosa rispondete in merito? guardi i magistrati sono l'unica categoria professionale che viene valutata sempre ogni quattro anni e anche più spesso in caso facciano domande per uffici direttivi noi non solo non ci sottraiamo a questa valutazione ma l'abbiamo chiesta a noi stessi ma la valutazione deve essere fatta sui fatti non sul contenuto delle pronunce che piacciono o non piacciono al governo o alle forze di polizia o all'opinione pubblica dalla politica ora cosa vi vi aspettate? ci aspettiamo che finalmente vengano prese in considerazione le nostre proposte e che vengano stralciate quantomeno le parti più critiche di questa riforma le pagelle le valutazioni di professionalità basate sui precedenti e uno stralcio anche della questione della separazione delle carriere su cui non mi stancherò mai di dire e non riesco a capire perché siano gli avvocati a chiedere la separazione delle carriere che dovrebbero essere i primi a gioire di un pubblico ministero inserito nella giurisdizione e rispettoso dei diritti queste sono le ragioni anche della sospensione dell'attività ieri proprio da parte dei magistrati una mobilitazione che insomma ha riguardato diversi tribunali proprio nella nostra nella nostra regione sulla notizia con cui abbiamo aperto quindi questo agente della Polaria che in malattia giocava a tennis e comunque è stato assolto dalla maggior parte delle accuse mosse a suo carico scrive Colomba dice io quando sento queste cose già che è caldo mi viene ancora più caldo forse però nei certificati c'era scritto che ci voleva movimento per guardare presto sai che anche io ci ho pensato per pensare bene magari si diceva di fare un movimento e magari il suo fisiatra il suo fisioterapista gli avevano consegnato a giocare un po' a tennis può essere tutto può essere cosa vogliamo dire cosa vogliamo dire lasciamo anche questa possibilità il dubbio fa sempre bene a star desti nella vita continuiamo continuiamo ma parlando di cosa parlando dei passaggi col rosso eh sì sì perché ieri dal comune di Rimini approfittando di un caso eclatante è arrivato un primo bilancio delle infrazioni abbiamo delle fotografie no e un tragico schianto fortunatamente sì magari dopo una volta letta la notizia possiamo mostrare la sequenza inviata dall'amministrazione comunale un tragico schianto fortunatamente solo sfiorato è stato immortalato l'undici maggio scorso a Rimini dalla telecamera che si trova al semaforo tra via Chiabrera e via Satta un'automobilista alla guida di un'auto bianca ha ignorato il semaforo rosso e ha evitato per pochi centimetri di travolgere un uomo su una vespa che transitava regolarmente all'incrocio scena ripresa dalle telecamere in strada della polizia locale dice il vista red su quel semaforo uno dei tanti ormai sul territorio del comune di Rimini che sono dotati di questo impianto ma sembra che nonostante la presenza di questi impianti la piaga dei passaggi col rosso continua ad essere piuttosto frequente anzi troppo frequente perché da gennaio di quest'anno ad oggi quindi meno di 5 mesi 4880 infrazioni sono state immortalate dai vista red più o meno un dato in linea col 2021 quando in tutto l'anno sono state 16344 e sono decisamente troppe per chi ci può seguire sui mezzi televisivi o sui social possiamo anche mostrare la sequenza immortalata dalle telecamere del semaforo dove si vede questa auto bianca passare col semaforo rosso si sta avvicinando la vespa guidata appunto da un uomo e l'impatto è sfiorato veramente per pochissimo poi ci sono c'è anche proprio un'immagine di dettaglio dove si vede l'uomo sulla vespa con uno sguardo attonito che fissa l'auto che dai favi dietro ha inchiodato all'ultimo proprio per evitare l'impatto distrazione non lo so però comunque il semaforo anche qui non possiamo saperlo sa di fatto che in questi casi veramente il rischio per poi chi si trova su una mezza due ruote che sia una bici che sia un motorino è altissimo perché poi al semaforo se è verde comunque tu procedi si puoi procedere lentamente come bene farlo in tutti gli incroci anche in quelli semaforici però ti senti abbastanza tranquillo effettivamente io che mi sento particolarmente sensibile essendo da tanti anni a bordo di due ruote vedere lo sguardo di questo scuterista che si è girato come per dire che cosa sta succedendo e questo questo automobile che è proprio in chioda all'ultimo istante quando uno vede il verde avanza con grande tranquillità e vederti di botto un'auto di fianco aveva mai capitato una volta ero in macchina essere stato centrato in pieno da uno che passava col rosso e non è una bella sensazione perché sei proprio colto totalmente alla sprovvista quindi al di là dell'impatto in sé poi quando sei sull'auto sei comunque più tutelato però anche perché veramente in questo caso non c'è nessuna corresponsabilità cioè un'automobile che poi qui in questo caso loro sicuramente l'automobilista essendo stato immortalato dal Vista Red è stato multato ma mi chiedo c'è anche qualche sanzione in più legata proprio al fatto di avere rischiato di falciare un motociclista non so se questo è previsto io so che c'è una discriminante tra i passaggi col rosso che avvengono di giorno e quelli che avvengono di notte che hanno una sanzione pecuniaria più elevata e se ci sono due infrazioni di questo tipo nell'arco di due anni scatta la sospensione della patente però non so se ci sono ulteriori aggravanti legate al mettere a rischio proprio in maniera così diretta un altro utente della strada noi salutiamo anche Giorgio che ci dà il good morning buongiorno good morning internazionali quindi il nostro Mattia che ci segue da Londra apprezzerà molto anche il saluto e il buongiorno che arriva da Giorgio adesso direi che possiamo entrare in argomento politico entriamo in argomento politico entrerei in argomento politico facendo una piccola sintesi che mi sono preparata di chi avremo in campo in questa tornata di amministrative partiamo dal comune più piccolo anche perché ci sono anche alcune rettifiche rispetto a quanto vi abbiamo comunicato nei giorni scorsi per quanto riguarda Sant'Agata Feltre il candidato è Goffredo Polidori un solo candidato insieme per Sant'Agata Feltre è il nome della lista civica la rettifica in questo caso riguarda il quorum perché con l'avvento della pandemia per il timore che meno persone si possano arrecare alle urne è diminuito la percentuale del quorum quindi sarà sufficiente arrivare al 40% degli elettori che si recchino alle urne per poter dar seguito alla elezione di Polidori a sindaco se non si arrivasse al 40% scatta il commissariamento fino alla tornata elettorale successiva nella quale verrà inserito il comune ma no io penso che i santagatesi siano ben lieti di poter avere un sindaco vero perché poi il commissario che tra l'altro dovrebbe farlo per un certo periodo abbastanza anche congro cioè non può fare l'attività politica del sindaco anche per le sorti e il bene della comunità a Morciano non sarà corsa solitaria per Giorgio Ciotti sembrava delineata la strada fino a poche ore dalla chiusura della consegna delle firme delle liste in campo anche perché lo stesso movimento 5 Stelle che 5 anni fa era in campo insieme ad altre due forze politiche una appunto la stessa quella capeggiata dallo stesso Ciotti 5 anni fa avevamo 3 candidati in quel di Morciano ma il 5 Stelle aveva detto di non essere che aveva intenzionato a partecipare a questa tornata elettorale in realtà sul filo di lana è arrivata la lista di Mario Garattoni Mario Garattoni personaggio noto a Morciano è stato consigliere comunale per tanto tempo anche in capo alla Lega che ha presentato appunto una sua lista che si chiama lista pro Morcien trasparenza questo è il nome quindi andrà a sfidare Giorgio Ciotti che è il sindaco uscente con la lista civica Morciano Viva che mette insieme varie anime che si erano invece fronteggiate la scorsa tornata elettorale che poi hanno trovato unità all'interno del consiglio comunale in particolare negli ultimi due anni di pandemia a Coriano la sfida sarà a tre Cristian Paolucci per Coriano Futura Gianluca Ogolini per Progetto Comune Oreste Godi di Sinistra Unita anche qua appunto il nome è arrivato sul filo di lana anche si sapeva già da un po' di tempo che la sinistra corianese si stava mobilitando per la raccolta delle firme tra l'altro si tratta sempre qua con tutte le novità legate al Covid anche di numeri non proibitivi per quanto riguarda specie i comuni un pochino più piccoli a Riccione sarà sfida invece a quattro Stefano Caldari che è il candidato della lista Caldari Sindaco che si dovrebbe presentare questa settimana della lista Renata Tosi di Noi Riccionesi di Forza Italia Fratelli d'Italia e Lega Daniele Angelini candidata di PD Movimento 5 Stelle Coraggiosa 2030 Riccione Uniamo Riccione Riccione col cuore Claudio Cecchetto candidato di Riccione Civica Fratelli di Riccione e Lista Cecchetto anche qua sul finire è decaduta la quarta lista che era stata invece annunciata cioè la Riccione contemporanea si che poi alla fine mi hanno spiegato ieri esatto che è una sorta di network e quindi non si presenta come lista vera e propria diciamo che alcuni anche che fanno parte di Riccione Network sono proprio poi confluiti nelle vere e proprie liste quindi nelle altre tre liste che ci sono e poi Stefania Sinicropi che è la candidata Trevù che reduce insomma dal buon ottimo riscontro elettorale dell'ottobre 2021 in quel di Rimini ci riprova anche a Riccione ovviamente noi andremo a seguire tutte le conferenze di presentazione delle liste ce n'è stata una anche nella serata di ieri proprio di Riccione Civica quindi parliamo della coalizione per Cecchetto che vi proporremo nella mattinata di domani i nostri approfondimenti partiranno invece la prossima settimana a partire dalle 10 con un tempo reale speciale elezioni in studio tutti i candidati a sindaco i dettagli poi ve li daremo mano a mano su chi saranno i primi nostri ospiti adesso però facciamo un passo indietro andiamo in ordine rigorosamente cronologico andiamo alla serata di sabato quando si è presentata sulla spiaggia con una festa in realtà più che una conferenza la lista Riccione 2030 2030 Riccione tra le forze che sostengono la candidatura a sindaco di Daniela Angelini tra le priorità più sentite è quella di far diventare Riccione una città viva e attiva 365 giorni all'anno e noi abbiamo mandato a seguire questa conferenza il direttore vivo e attivo 365 giorni all'anno Simona Mulazzani mi piace questa ha scelto una festa in spiaggia per presentarsi la lista civica 2030 Riccione a sostegno di Daniela Angelini un percorso iniziato un anno fa e che ora si declina con la candidatura per il consiglio comunale di 24 persone nessuno dei componenti tengono a sottolineare ha mai ricoperto incarichi politici rappresentano le diverse aree geografiche della città con una forte eterogeneità anche per competenze professionali le persone che hanno scelto di mettersi al servizio della città e che fanno capo a questa lista sono persone diverse tra di loro appartengono a zone diverse della città hanno dei profili professionali molto diversi e questa diversità si è tradotta in una bella ricchezza una ricchezza che si traduce a sua volta in confronti di idee e questo è esattamente quello che ci piace cioè un dialogo dove ognuno porta il proprio contributo sulla base della propria esperienza questo permette di costruire un pensiero plurale che forse in questi ultimi anni abbiamo così un pochino patito la città ha bisogno non di un stravolgimento totale perché abbiamo sempre detto che ciò che funziona non deve essere cambiato a priori ciò che invece ha bisogno di una spinta ulteriore ce ne sono parecchie nel nostro programma le menzioniamo tutte noi crediamo che sia il momento di dare un cambio di passo soprattutto sulle opere strategiche e sull'approccio sociale questo l'abbiamo rimarcata più riprese perché credo che sia il vero tallone da chi ha amministrato fino ad oggi in perfetta sintonia con il progetto politico di Daniela Angelini 2030 Riccione sente di essere lista di riferimento per la candidata sindaco e pone al centro della campagna elettorale alcuni temi tra cui quello che il coordinatore Ubaldi definisce delle due stagioni noi abbiamo due stagioni da quattro e da otto mesi quella da otto non è mai stata considerata come tale oggi è un'esigenza del territorio l'altra invece è più qualcosa che riguarda a un aspetto di strutturazione e composizione degli eventi noi dovremmo diventare una vera e propria fucina di eventi e anche di professioni turistiche ed è per questo che abbiamo creato l'accademia il progetto dell'accademia delle professioni turistiche perché noi dobbiamo diventare fucina degli operatori in città e dobbiamo vivere una città 12 mesi l'anno e dare un'economia 12 mesi l'anno queste erano le voci raccolte nella serata di sabato un paio di messaggi prima di tornare sono a sud di Riccione diciamo bagno 23 per cui insomma ognuno poi vediamo anche nella scelta dei luoghi dove si presentano le diverse liste anche poi il desiderio in qualche modo di innervare quella stesso territorio con delle proposte con delle idee ad esempio la scelta in questo periodo tra l'altro con questo caldo così anche anticipato di farle in spiaggia per Riccione è fondamentale perché magari ti dice che cos'è Riccione è una città di mare ma come la possiamo far vivere sempre altro messaggio che è arrivato in questo caso collegato al tema dei semafori dei passaggi col rosso se i semafori in città non vengono rispettati potete per favore chiedere se ne mettono uno al cimitero di San Lorenzo in Correggiano magari munito anche di telecamera dato che si rischia la vita per attraversare e le tombe sono in preda ai vandali questo appunto il messaggio che ci è arrivato ce ne arriva anche uno sui social con Valentino che ci augura un buon martedì e dice comunque prossimamente credo ci sarà anche qualche risultato popolare referendario sappiamo che sono appunto la tornata elettorale lo abbiamo già ricordato più volte del 12 giugno vede accorpati i 5 quesiti referendari poi bisognerà capire se saranno 5 se la riforma si concretizzerà prima quindi potrebbero diminuire di numero e le amministrative nei comuni che alle amministrative andranno con i referendum che saranno i primi ad essere scrutinati nottetempo poi dalle 14 invece lo scrutinio delle schede legate alle elezioni e noi saremo in diretta dalle 14 noi saremo in comuni per i comuni per il referendum nel senso che magari alle 14 vediamo i risultati del referendum che riguarda il nostro territorio però domani Simona Mulazzani vi declamerà a memoria i quesiti referendari sì 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 sta studiando mi sto preparando mi sto preparando adeguatamente anche un po' con intonazione attoriale nella mattinata di ieri si è presentata invece e andiamo in un'altra coalizione la lista di Forza Italia anche in questo caso le liste continuano a presentarsi ormai quotidianamente ormai ne restano poche che sono rimaste inarretrato da questo punto di vista parola d'ordine come diciamo per tutte le liste che sostengono Stefano Caldari è la continuità così anche per Forza Italia vediamo 24 nomi 16 uomini 8 donne per la lista di Forza Italia in vista delle amministrative del 12 giugno a Riccione le azzurri non si sbilanciano in previsioni sul proprio risultato elettorale ma l'obiettivo spiega il senatore coordinatore provinciale Antonio Barboni e tornare in consiglio comunale siamo riusciti a ricompattare il partito e in lista abbiamo messo i migliori e aggiunto confermando piena fiducia al candidato sindaco Stefano Caldari riconfermati in blocco gli amministratori uscenti capolista l'assessore Aldemanio Andrea Dionigi Palazzi con lui tentano il bis in consiglio Greta Testa che con i suoi 26 anni è la più giovane in lista come già accadde 5 anni fa e Daniele Martini subentrato in consiglio negli ultimi mesi di mandato in corsa anche il coordinatore locale di Forza Italia Evano Batani il presidente del consiglio comunale nel primo mandato Tosi Giulio Mignani e direttamente da rinascita civica dalle amministrative riminesi dello scorso anno Mario Erbetta Forza Italia ha la fortuna di essere comunque amministrazione uscente ed è stata parte integrante nelle scelte di questa amministrazione la parola d'ordine sarà continuità e nello specifico io mi sono occupato di Demanio e le cose fatte sul Demanio sono state tantissime gli obiettivi sono stati centrati tutti per citarne solo alcuni abbiamo l'importanza del progetto dell'UNESCO di questi giorni il ricevimento della bandiera blu la qualità delle acque di balneazione diciamo che gli aspetti della città sono molteplici e cura particolare andrà comunque nel settore che è il mare per mare intendo gli stabilimenti balneari i ristoranti le attività sportive acquatiche la pesca anche se a Riccione è un piccolo comparto ma assolutamente importanti e andremo a tutelare e difendere tutto quello che sono le nostre tipicità le nostre tradizioni la nostra storia in questi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro in tutti i settori quindi che vanno da quello sociale piuttosto che dall'edilizia all'urbanistica al Demanio quindi vogliamo sicuramente dare una continuità al lavoro fatto in questi cinque anni perché credo sia giusto premiarlo i risultati si vedono e quindi il primo obiettivo è quello di vincere dopodiché il secondo obiettivo è sicuramente quello di portare avanti tutti i progetti che l'amministrazione ha messo in campo e che ancora non sono conclusi in questi cinque anni queste sono le voci che abbiamo proposto anche nel telegiornale di ieri sera stiamo lavorando da qualche giorno ad una notizia che potrebbe essere utile per chi si arricchierà le urne oltre ai candidati sindaco stiamo cercando di mettere in fila tutti i nomi dei candidati delle varie liste ovviamente alcune ancora non si sono presentate nicchiano nel fornire in anticipo poi in realtà i nomi sono stati già depositati ci fosse magari l'effetto a sorpresa ce ne mancano ancora sono sedici le liste da qui al 12 giugno sono sedici le liste che si presenteranno a Riccione a sostegno di quattro candidati diciamo che due maxi coalizioni da sei poi quella di Cecchetto da tre e poi appunto la 3V e il totale fa sedici ce ne manca ancora qualcuna stiamo cercando di farci dare i nomi così magari poi la notizia potrà essere d'aiuto a chi vuole andare a cercare tipo elenco telefonico io questo lo conosco questo no esatto questo mi ha chiesto il voto anche quest'altro me l'ha chiesto sono due 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 calzioni diverse vabbè non succede nulla tipo indovina chi beh è normale io credo che insomma almeno personalmente conosco tanti dei candidati facendo una rapida prendete con beneficio di un inventario secondo me sono circa 350 le candidature perché per la coalizione dell'Evangelini 125 perché abbiamo il 5 stelle che ha la lista da 17 non da 24 75 più o meno saranno per Cecchetto per Cecchetto sono tre liste da 24 quindi sono 72 e io credo altri una ventina quantomeno per i 3V e poi c'è la coalizione del centrodestra che ha più o meno i numeri del centrosinistra al momento tutte le liste che si sono presentate hanno liste da 24 quindi forse anche qualcuno in più quindi potrebbero essere 350 forse anche di più che in una città come Riccione che ha 33 33 mila abitanti vuol dire che di fatto uno ogni 10 si candida no non uno su 10 uno su 10 no non è uno su 10 no non credo adesso un attimo però non è uno su 10 100 ogni 10 mila 100 ogni 10 mila 100 ogni 10 mila perché arrivi a praticamente 100 ogni 10 mila vuol dire che 30 mila sono 300 e sono 33 mila non vi preoccupate adesso facciamo questi nostri conteggi matematici poi vi diciamo come siamo adesso imposto l'equazione bravo sì esatto ma non si sa mai magari come dici tu però mi sembra tanto no no uno su 10 forse no mi sembra tanto però guarda qualcuno magari abile che nei conti matematici ci può aiutare mentre noi parliamo anche di altro così adesso fa tutti i conti uno su 100 allora però in realtà ci sono altre realtà che si stanno presentando ve lo diceva Andrea prima ieri sera c'è stata la presentazione di Riccione Civica in questo caso è stata fatta nella quartiere San Lorenzo vi proporremo le interviste nell'appuntamento serale del nostro TG e quindi domani apprendiamo dai quotidiani prima parlavamo della Rilsta 3V che avrà come candidata la Sinicopri ecco lei Sinicropi Sinicropi ah quindi ok Sinicropi loro si presenteranno almeno questo scrive il Carlino domani alle 19 al parco parco Cicchetti Cicchetti vabbè diventa anche difficile al parco Cicchetti quindi se poi siete interessati visto che comunque sono tutte presentazioni pubbliche cioè anzi loro sono ben lieti di vedere anche cittadini presenti perché magari danno anche alcune indicazioni sui valori che portano in campo su quelli che sono i loro programmi insomma vi informiamo anche di questo e poi ve lo racconteremo perché noi cercheremo per quanto c'è possibile di seguire tutte le presentazioni di lista stiamo anche definendo i confronti che si svolgeranno a Riccione e Coriano con le date precise insomma ci stiamo confrontando anche con i candidati nell'auspicio che tutti i candidati poi accolgano il nostro invito noi ce lo auguriamo nelle scorse tornate elettorali è accaduto praticamente sempre difficilmente ci sono state defezioni e speriamo che anche in questa occasione possa essere così sicuramente tutti auspicano il confronto è giusto che il confronto tra l'altro le regole di ingaggio sono piuttosto chiare stesse domande stessa tempistica per tutti ovviamente noi solitamente non diamo le domande in anticipo nel caso appunto dei confronti ma questo vale un po' per tutti anche se poi quando si arriverà allo sprint finale gli argomenti sono quelli noi vediamo ogni giorno i candidati intervenire su quelli che poi saranno i temi su cui anche noi li solleciteremo quindi diciamo che non ci sono poi effetti sorpresa no direi di no anche perché poi i temi sono quelli d'altra parte se uno vuole fare il candidato a sindaco di una città i temi centrali anzi probabilmente non riusciamo a toccarli tutti perché in città grandi pensiamo insomma pensiamo a Rimini quanto era impossibile poter intervenire su tutte le tematiche anche nell'arco di 40 50 o un'ora di conversazione e ancora meno durante i confronti però si toccano magari anche quelli che comunicativamente possono cogliere maggiore attenzione da parte poi di chi ci segue di chi ci seguirà in presenza per i confronti di chi ci segue in radio in tv insomma anche per gli appuntamenti con ogni singolo candidato io vorrei Andrea tornare un attimo perché ieri sono arrivate due note tra l'altro a stretto giro nel giro insomma di pochi minuti l'una dall'altra perché qualche giorno e io dico per fortuna che non si parla più di alpini nel senso che come sempre accade c'è il clamore della prima ora con una grande attenzione che supera anche i confini del territorio dove si svolge una cosa in questo caso sappiamo bene anche poi tutte le vicende che ci sono state legate alle presunte probabili molestie o comunque atteggiamenti non corretti da parte di persone che avevano il cappello d'alpino però ieri invece non so se si siano in qualche modo accordati o anche semplicemente legato ad un stesso sentire da una parte gli albergatori di Riviera Sicura e dall'altra 14 attività commerciali della zona di Marina Centro sono volute intervenire per dare il loro sostegno agli alpini nel senso chiaramente sempre mettendo l'attenzione su quello che può essere accaduto quindi su quelli che possono essere stati comportamenti scorretti ed illeciti da parte di alcune persone però sia da parte degli albergatori che tra l'altro pare abbiano fatto anche un sondaggio su oltre 100 alberghi dove erano ospitati degli alpini e appunto parlando con questi albergatori immagino che è stato un sondaggio tra colleghi non si segnala nessun tipo di atteggiamento scorretto tra l'altro neanche nei confronti del personale dell'albergo che loro ci tengono a dire in molti casi magari sono ragazze sono donne che accolgono poi le persone o la reception o altri luoghi dell'hotel posizione simile analoga anche da parte appunto di questi 14 firmatari di attività commerciali loro dicono noi nella zona di Marina Centro forse più che altri luoghi della città abbiamo sentito forte la presenza degli alpini in quelle giornate eccola allora è stata una presenza piena di energia piena di allegria con comportamenti sempre molto molto corretti non possiamo lasciare che il binomio rimini-alpini si trasformi in rimini ad un'ata di molestatori e violenti lo speriamo perché non servirebbe come abbiamo detto noi sarebbe quel semplicismo che non aiuta nessuno quindi bene tornare attenzione sempre costante anche magari alle prossime denunce che arriveranno alle segnalazioni perché anche semplicemente una segnalazione di comportamenti molesti va comunque tenuta in considerazione allo stesso tempo però anche un piacevole ricordo di questo appuntamento noi abbiamo visto vi dico solo questa cosa abbiamo guardato un po' i numeri di quanto siano stati seguiti anche gli appuntamenti che noi abbiamo dedicato alla dunata che fossero le direte che fossero i vari video che abbiamo fatto negli appuntamenti c'è un'attenzione altissima video era un pezzo che non vedevamo video tanto visti immaginiamo non solo nel riminese ma proprio con questa capacità degli alpini anche di far parlare di sé in modo positivo in modo buono e quello insomma è importante sempre ricordarlo e quindi insomma queste sono le riflessioni che sono apparse proprio nella giornata di ieri diamo uno sguardo adesso al bollettino relativo al covid poi ci sono alcune novità che vi andremo a leggere di rientro che leggo ora sul lanza ma sentiamo come sono andate le cose ieri sono pochi i casi oggi in Emilia Romagna ma a fronte anche di pochi tamponi come sempre accade nel fine settimana numeri in crescita invece per i ricoveri in provincia di Rimini i contagi sono 128 ieri erano 184 87 le guarigioni salgono a quota 3 più 1 i pazienti in terapia intensiva nessun decesso segnalato nel riminese a fronte invece dei 14 comunicati in tutta la regione le vittime vanno dai 70 ai 101 anni in Emilia Romagna sono 1873 i nuovi casi a fronte di 7749 tamponi la percentuale dei nuovi positivi sul numero di test fatti sale al 24,2% le guarigioni doppiano i contagi sono 3.728 i casi attivi scendono a 36.360 inversione di tendenza invece negli ospedali i pazienti nelle terapie intensive regionali sono 33 più 3 mentre quelli negli altri reparti covid salgono a 1.185 35 in più in 24 ore questo è l'andamento del covid altre notizie rapide perché la sottosegretaria all'istruzione ha sollecitato la rimozione dell'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche dopo aver ricevuto richieste da tante famiglie dice si potrebbe lasciare l'obbligo di indossare la mascherina solo quando ci si alza dal banco o si circola nei corridoi io penso che qualche settimana di scuola senza mascherina si potrebbe pure fare perché ormai nelle scuole nei teatri nei cinema resta l'obbligo delle mascherine e sui voli ma i voli in realtà li stanno togliendo sui voli in partenza dall'Italia si continua ad indossare la mascherina sui voli l'ordinanza in vigore prevede che l'obbligo sui mezzi di trasporto ed aerei permanga infatti fino al prossimo 15 giugno pertanto l'ENAC ai passeggeri in partenza dall'aeroporto fiumicino anche con voli Lufthansa Air France Swiss e quant'altro chiede di continuare ad indossare il dispositivo di protezione sono arrivati senza mascherina perché secondo me in Europa la maggior parte dei paesi l'ha tolta che però vorrei dire magari in un aereo dove non è che proprio l'aria sia tanta questa compressione sei molto vicino perché normalmente i seggiolini dell'aereo sono veramente limitati al posto se gli stati di partenza o destinazione richiedono l'uso di mascherina nei trasporti pubblici gli operatori aerei dovrebbero richiedere ai viaggiatori e agli equipaggi di indossare una mascherina oltre anche la data odierna dove invece in molti altri paesi d'Europa questo obbligo è venuto meno però guarda so che anche questa delle mascherine credo che almeno per quello che ne so la maggior parte dei paesi europei ha tolto l'obbligo della mascherina per i bambini e per i ragazzi ora è giusto tenersi dalla parte del sicuro i bambini perché potessero andare a scuola il più tempo possibile senza dover subire rallentamenti che già ce ne sono stati tanti però direi che forse può essere giunto il tempo anche perché in tante classi comunque lo spazio c'è quando tu sei seduto hai il compagno non così vicino e quindi magari eventualmente la puoi indossare se devi andare in bagno se devi andare a fare un'attività insieme al gruppo classe in un'altra aula ci sta secondo me chi è che l'ha detto il sottosegretario all'istruzione il sottosegretario all'istruzione magari speriamo che qualcuno prenda questa indicazione perché so che già c'era un'indicazione di questo tipo da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano non so se stamattina c'è il nostro Stefano che ci segue da là ma i vari vertici insomma ricordiamo sono province autonome avevano chiesto cioè loro lo vorrebbero fare però stavano facendo un passaggio anche con con il governo per insomma per fare insieme questa cosa immaginiamo vediamo ci sono anche alcuni numeri che riguardano i potenziamenti legati alla pandemia perché da oggi fino a giovedì sarà presente proprio in regione Tommaso Petroni dell'unità per il completamento della campagna vaccinale per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia ho pensato ieri sera se devi mettere un sottopancia a questo generale che in realtà è quello che ha preso il posto dell'unità di crisi che era quella del generale Figliuolo sappiamo che il generale Figliuolo con tutto il suo gruppo si è finita l'emergenza giustamente è passato a fare altro però rimane questa unità e nel maggio del 2020 avevano chiesto a tutte le regioni italiane di potenziare proprio la sanità si ricordo legata anche proprio al tema Covid 165 nuovi posti in terapia intensiva 230 in terapia subintensiva per un investimento di quasi 69 milioni di euro questo ha fatto la regione al 30 aprile di quest'anno in base appunto alle richieste che erano arrivate anche a livello nazionale per i potenziamenti legati alla pandemia 19 interventi nei pronto soccorso appunto di potenziamento uno imminente in conclusione per altri 25 i lavori sono in corso alla fine di questa fase si sarà intervenuti con un investimento complessivo di 52 milioni e mezzo di euro inoltre la regione si è anche dotata di 17 nuove ambulanze attrezzate per trasportare pazienti infetti quindi questi sono numeri positivi che dimostrano l'attenzione messa in campo negli ultimi due anni dalla regione sul tema sanità arrestano poi le problematiche legate al periodo precedente che poi ha portato anche ad un'urgenza ulteriore una volta esplosa la pandemia abbiamo sentito sia ieri che nei giorni scorsi il grande problema legato alle professioni infermieristiche abbiamo sentito anche le problematiche legate ai pronto soccorso con medici che non si trovano che fuggono dal pronto soccorso insomma ci sono anche delle situazioni che purtroppo vanno affrontate e sicuramente se si è arrivati a questo è perché è mancato qualcosa prima non dico di Emilia Romagna dico in generale in Italia ma ovviamente per tanto tempo la sanità si è data un po' per scontata quindi questo probabilmente ha portato molte persone ad allontanarsi da quello che è un settore che si è dimostrato chiave per la salute del paese e forse si è capito la cosa che era già nell'aria ma che ancora non era riuscita a prendere corpo che la sanità non può essere solo l'ospedale cioè non può essere solo il riferimento all'ospedale quando si hanno dei problemi oppure semplicemente il medico di medicina generale che già è molto affaticato anche per tutte le patologie che deve seguire ci devono essere delle unità territoriali magari che mettono insieme anche professionalità diverse ora si sta cercando di andare verso questa sanità del territorio le case della salute ne sono un esempio però ecco ci arriviamo secondo me con un po' di ritardo e soprattutto come dicevi tu Andrea anche dopo tanti anni nel pre-pandemia in cui si è sempre cercato di ridurre poi possiamo sempre dire l'Italia comunque ha una sanità eccellente anche nei confronti di altri paesi dell'Europa e del mondo ma credo non sia sufficiente nel senso che proprio perché hai un buon livello di sanità dovresti sempre fare meglio forse è uno dei settori che merita gli investimenti e non farli solo quando c'è un'emergenza per poi tornare a ridurre ora questi sono i numeri dell'Emilia Romagna Petroni li guarderà io immagino che dovendo andare un po' in giro per tutte le regioni d'Italia sicuramente sarà soddisfatto del lavoro fatto in Emilia Romagna perché si è cercato di tenere duro però di questioni ce ne sono proprio perché sei vuoi essere un'eccellenza beh allora su tante cose devi lavorare per migliorare Stefano ti dà ragione dice che sulla questione mascherine ci stanno provando entrambe le province infatti ho sentito un'intervista all'assessore credo alla scuola della provincia di Bolzano la scuola è finita infatti chi lo intervistava diceva tanto qui il governo tergiversa poi tra poco arriverà la notizia verso il 10-12 di giugno la possibilità in realtà loro sperano arrivi prima togliere la mascherina postuma nelle foto che avete fatto in classe per andare a fare l'esame di maturità magari non lo so chissà invece forse queste dichiarazioni di stamane fanno pensare che una riflessione si stia facendo magari qualcosa di un po' più concreto e speriamo non con tutto il bene per gli amici di Bolzano e di Trento che possa riguardare non solo le province autonome ma anche tutte le altre regioni d'Italia e tutte le altre province d'Italia facciamo un salto adesso in quel di Sant'Arcangelo andiamo a Sant'Arcangelo che è sempre bella nel fine settimana alziano i preparativi per il Gio d'Italia domani insomma noi lo seguiremo a partire dalle 11 collegamento in diretta con il nostro Roberto Bonfantini che si è iscritto al Giro d'Italia proprio per la tappa di Sant'Arcangelo dopo il bianco rosso vestirà di rosa Roberto Bonfantini è uno dei favoriti per la tappa di Bonfantini ah sì per la tappa di domani no 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 ma assolutamente la bici elettrica la bici elettrica secondo me non è sufficiente comunque con tutto è che io ho grande rispetto per le capacità atletiche del nostro Roberto Bonfantini ma secondo me con i corridori del Giro d'Italia non basta neanche l'e-bike vabbè allora prendere ti presti lo scooter il tuo va più veloce si sai poi il tuo è tarato per non essere si quindi va ancora più veloce esatto l'hai truccato come si faceva una volta fa anche quella confusione la marmitta bucata è un po' così il direttore è un po' così o il mio booster esatto negli anni 80 andava tanto di modo del booster quello sì esatto anche andiamo a Sant'Arcangelo perché nel fine settimana è tornata dopo insomma lo stop anche qua di un paio di edizioni legato alla pandemia balconi fioriti 30.000 persone queste sono le stime delle presenze per la 33esima edizione stime effettuate dagli organizzatori che sono Noi della Rocca e Blu Nautilus la città ovviamente tutta colorata dai fiori con un riscontro positivo anche dal punto di vista dell'impatto turistico 500 persone che si sono rivolte all'ufficio turistico Sant'Arcangelo 300 che hanno usufruito anche delle visite guidate organizzate dalla Proloco e quasi 200 i turisti che hanno pernottato negli alberghi e nei bed and breakfast di Sant'Arcangelo quindi sicuramente una bella ventata di primavera ma direi quasi d'estate visto il clima del fine settimana e anche una bella boccata d'ossigeno dal punto di vista economico perché insomma non nascondiamoci che le attività dopo questi anni complicati hanno bisogno anche di iniziative di questo tipo dove ci sono tutti questi bei fiori dico ma caspita ma io ho un limone a casa che non sta affatto bene allora perché mi rendo conto del malessere delle mie piante quando vedo le piante guarda la pianta che hai di là ma quella pianta sta benissimo continui a dire che sta benissimo nonostante me un po' crolla su se stessa crolla su se stessa però continua a buttare nuove foglie cioè è persistente è tenace quasi più di noi invece ieri il fedeo consumatore ha lanciato un allarme forte delle estime arrivate dall'osservatorio nazionale che prevedono un aumento medio tra il 4 e il 5% con picchi del più 12-13% per quanto riguarda i servizi di spiaggia diciamo che al di là delle estime nei giorni scorsi sui quotidiani si leggevano anche alcune dichiarazioni da parte di operatori che dicevano insomma che vista l'attuale situazione i rincari l'inflazione e quant'altro alcuni ritocchi sarebbero stati in qualche modo necessari in questa stagione secondo il fedeo consumatore invece non è così perché l'associazione dice che quest'anno ci saranno minori restrizioni minori misure di contenimento e quindi questo consentirà ai gestori di avere più clientela di tornare a pieno regime e quindi di avere maggiori introiti e temono da fedeo consumatori che questi rincari servano per recuperare i mancati guadagni delle ultime due stagioni però rincari che si abbattono sulle famiglie che vivono anch'esso una situazione complicata in più completo un attimo il discorso di fedeo consumatori apre anche il tema delle spiagge libere ricordando come spesso le spiagge libere vengano di fatto occupate per iniziative Rimini è un esempio perché credo che anche l'arena che è stata allestita sia in una porzione di spiaggia libera e non sono quindi utilizzabili invece da chi magari vorrebbe accedere alla spiaggia senza dover pagare allora due aspetti uno proprio su questo tema della spiaggia libera proprio ieri c'è stato un incontro in comune a Rimini per fare un bando per cedere un incontro che ha visto anche le categorie economiche presenti le varie associazioni e via dicendo per cedere una porzione della spiaggia libera di piazzale Boscovic quindi siamo attaccati al porto di Rimini proprio per alcune attività ludico sportive diciamo così sarebbe una piccola porzione però sai già si parla tanto del fatto che le spiagge libere non sono sufficientemente grandi e ce lo dice anche Feder Consumatori che anche questo potrebbe creare qualche allarme magari nei difensori delle spiagge libere d'altro canto sul tema dei rincari è vero che ci saranno meno restrizioni ma soprattutto parlando di spiaggia ma questo non per giustificare gli aumenti che vivremo o altro però effettivamente i comuni della nostra costa hanno deciso di mantenere le distanze tra i vari ombrelloni tra le varie tende e quant'altro come nel periodo Covid quindi come nel 2020 e nel 2021 poi secondo me magari durante l'estate visto come dice Feder Consumatori non ci sono più le restrizioni i lettini li restringiamo un po' li mettiamo gli sdraio un po' più vicino però effettivamente la scelta è stata anche questa sul tema tra l'altro proprio sia il Corriere che il Carlino fanno due pagine cioè una pagina a testa con il Corriere che dice citando delle riflessioni della Presidente degli albergatori Rinaldis che i turisti li capiscono cioè gli alberghi ritoccano i prezzi ma non lo so forse siamo anche da Turismo in momenti in cui siamo turisti abbiamo vissuto queste inverno stangate di luce di gas poi arrivi in albergo magari c'è non so un aumento di pochi euro e dici vabbè tanto è evidente che crescendo tutto cresce anche l'albergo questo dice la Rinaldis sul Carlino ci sono due voci diverse sono quelle da una parte di un bagnino che è Isaac Zoffoli che dice bollette materiali più salati le tariffe sono ferme da anni quindi probabilmente ci sarà un aumento lui è titolare di un bagno abbiamo operato solo piccoli ritocchi abbonamenti invariati per i clienti stagionali e adesso possiamo fare più sconti quindi diciamo per chi può viversi appieno la stagione quindi addirittura farsi un abbonamento stagionale i prezzi rimangono invariati diciamo che invece lo avvertirà di più chi va in spiaggia una volta ogni tanto l'avvocato Biagini che sappiamo essere anche responsabile del coordinamento nazionale per il male libero dice è salito il costo del sole del mare libero non il male del mare libero una cosa da il male libero nuovo libro è salito il costo del sole i rincari non sono giustificati anzi il sole scalda anche di più per cui secondo lui questi rincari non sono affatto giustificati 9 e 57 minuti noi siamo arrivati a chiudere dobbiamo fare dei saluti questa puntata breve con i saluti appunto a Paolo e Roberto che ci danno il buongiorno un buongiorno che noi contraccambiamo invitandole a restare su Radio Icaro Icaro TV ovunque ci stiano seguendo perché tra poco arriva Stefano Rossini con io ne ho lette cose proprio così e quindi noi siamo arrivati al termine ci ritrovate domani sempre puntuali attorno sempre puntuali attorno alle 9 sembra un po' uno simero però ormai ci siete abituati per cui vi aspettiamo e vi auguriamo una buona giornata e domani mi raccomando la diretta eh sì poi domani sarà bellissimo vestiamo di rosa domani ti vesti di rosa qualcosa di sbiadito di rosso lo trovi no ma che sbiadito di rosso metti in lavatrice con la parecchina vabbè io son bravo buona giornata tempo reale l'informazione in diretta della provincia di Rimini è una buona giornata